Il cammino del PD in Italia e in Europa non si ferma qui. Chi ha fatto la maratona sa che per arrivare al traguardo la sfida si vince prima con la testa e poi con le gambe. Propongo che questa direzione, se il Presidente sarà d'accordo e se voi sarete d'accordo, si ritenga convocata in modo costante e tutti insieme andiamo a dire con forza e determinazione viva l'Italia. Grazie.